Eccoci qua, allora, briefing riassuntivo della missione Jungle Shield Bala, ovvero una missione che avviene circa un'ora o un'ora e mezza prima delle Jungle Shield che abbiamo giocato finora, la missione dove scortiamo un tank attraverso il ponte per poi assaltare l'aeroporto e le radio tower. Ora, questa missione si svolge un'ora e mezza prima e determina alcuni fattori per la Jungle Shield. Ora, andiamo a vedere direttamente il briefing, le maglie radio e le squadre assegnate. La missione è per il 7, ovvero domani. Le squadre attualmente teoricamente presenti saranno la Alpha, capitanata dagli AB, da Intrusor, squadra Bravo dei Dimock, squadra Charlie-Exa, Delta-OdK, Eco-EiD, Eagle Eye, ovvero due operatori UAV, uno Operatore Exa, il secondo posto al momento ODK, e una squadra Frogman anch'essa come la Eco andrà a riempimento, ovvero tutti gli operatori in surplus, tutti quelli che vanno fuori dalle altre squadre e sono in più o finché ci sono posti liberi, quindi a riempimento del server, andranno a riempire prima la Eco e poi eventualmente la Frogman. Le taskforce si dividono in due taskforce, la Alpha, capitanata appunto da Intrusor, capo operazione per l'intera missione, sotto la quale ci saranno la Bravo, la Eco e i due operatori Eagle Eye. Se ci sarà una squadra Frogman, anch'essa sarà sotto la Alpha. Seconda taskforce è la squadra Charlie e Delta. Charlie-Exa, ci sarò io. Ora, il briefing, la missione prevede la cattura e la difesa nella fase 1 di tre obiettivi. Katkula, la città, posizioni Hill e Beach in Machiaverne, quindi in mezzo alla giungla. La taskforce Alpha si occuperà di Katkula, quindi squadra è Alpha Bravo, se ci sarà una squadra Eco, anch'essa andrà su Katkula. La taskforce Charlie si occuperà delle posizioni Hill e Beach, tramite gli obiettivi che andranno segnati in mappa, andremo a segnarli in premissione. Ci muoveremo quindi dal nostro punto Spawn, ogni squadra ha la propria cassa frontale a sé, con i vari preset. Ogni squadra deve avere un caposquadra con il JTAC, quindi che abbia le onde lunghe e relativamente differente. L'importante è che almeno un operatore JTAC ci sia, quindi o il team leader o un operatore. Il JTAC sarebbe la designazione laser per uno dei nostri droni in volo. Solo tramite ordine verrà utilizzato e la designazione servirà per la fase 2. Ora, le squadre e le due taskforce si muoveranno secondo percorso nei rispettivi punti 0, cercando di evitare di essere visti fino al punto 0. Una volta che gli operatori UAV avranno fatto un primo giro dell'isola e avranno verificato la posizione attualmente ignota di Skywatch e Rainfire, una postazione anti-aerea e una postazione di Mortai. Una volta che ne hanno verificato la posizione sull'isola, verranno segnalate le posizioni tramite designatore dalla squadra Fragman o dall'UAV, se è ancora attivo, e verranno bombardate dal secondo UAV. Gli UAV saranno due, un Darter per sola ricognizione e un Nucav Sentinel con due bombe GBU. Verranno utilizzate per distruggere Rainfire e Skywatch prima che possano arreccare danni seri. Per la fase 1, quindi, la taskforce alfa muoverà sul punto 0, la Charlie muoverà sul punto 0, gli operatori Eagle Eye, quindi due operatori UAV, fin da subito, come entreranno in partita, dovranno immediatamente prendersi l'operatore, muovere per la casetta qua, con la cassa frontale, all'interno troveranno i due terminali UAV. Solo i due operatori UAV dovranno prendersi i rispettivi terminali. Una volta presi i terminali, potranno collegarsi al Darter, che verrà trovato anch'esso qua sopra, per TFI, e per l'operatore ODK si prende il suo, il suo, ce la posso fare, il suo terminale UAV, non ce la facevo, e collegarsi al drone UCAV, il quale dovrà restare fuori dall'area delle operazioni fino a quando non verrà dato l'ordine. Prenderanno i due droni, si posizioneranno, e li manderanno subito in volo, un chilometro in altezza. Quindi il Darter dovrà stare a un chilometro in altezza, e a scandagliare la zona. La squadra Frogman, così come per la squadra Igolai, partirà subito per l'operazione. Quindi si prenderanno in loro presetta la loro cassa, e prenderanno i loro veicoli subacquei, i due mini sottomarini, muoveranno secondo percorso azzurro, in base alle informazioni che ci daranno i Darter. Dovranno muovere o per Drop 1, o per Drop 2. In entrambi i casi verrà comunicato a inizio missione. Le squadre Alpha, Bravo, Charlie, Delta e Eco, manterranno posizione, quindi si entra, si prendono i preset, e si attende l'ordine del capoglottone per i movimenti, poiché si parte da qui e si va direttamente per ovest. I capi squadra si riuniranno insieme ai due droni, ai due piloti droni, all'interno della casetta, per il briefing iniziale, e per l'evento di domande. Una volta che la Frogman, se ci sarà, e le Task Force saranno in posizione, inizierà la fase 1, ovvero la cattura delle tre posizioni, Beach, Hill e Cat, Choula, Catcoula, come si chiama, e l'ordine è di conquistarle e presidiarle fino a nuova ordine. Quindi Alpha, Bravo e Eco conquisteranno la città e dovranno difenderla da qualsiasi attacco sud. Squadre Charlie e Delta muoveranno per zero. Insieme conquisteranno Hill. Conquistata Hill muoveranno insieme su Beach. e un paio di operatori verranno rilasciati su Hill in modo da fare un overwatch in direzione sud per verificare che non tentino la conquista. Una volta conquistata Beach, la Delta manterrà posizione Beach e la squadra Charlie tornerà su posizione Hill. Questa è la fase 1, finisce qua. Conquista e difesa. Per la fase 2, l'obiettivo è di eliminare Skywatch e Rainfire, nel caso non fossero già stati eliminati dai bombardamenti, e di conquistare l'aeroporto di Bala. Sono secondari gli obiettivi Depositor e i due obiettivi Tokyo Radio 1 e Radio 2. Entrambi si pensa che siano utilizzati per le comunicazioni nemiche, quindi se li eliminiamo potremmo ottenere un vantaggio. La Task Force Charlie farà percorso lungo costa, fino a raggiungere Yamooka. Ovviamente in base alle posizioni Skywatch e Rainfire ci potranno essere delle riassegnazioni, verranno fatte degli aggiustamenti in locale, in base alle informazioni dei data. La Task Force Alpha, invece, conquisterà in primis il Deposito, dal quale muoverà sulla posizione Tokyo 1. Conquistata Tokyo 1, proseguirà sull'Overwatch Bravo 3, probabilmente vi troverà la Fragman, e da lì si congiungerà per un breve periodo con la Task Force Charlie, poi puoi muovere sulla Tokyo 2. Conquistata Tokyo 2, la Task Force si muoverà sull'Overwatch Bravo e si dividerà. Quindi la squadra Bravo manterrà posizione per Overwatch su Bala, in caso fossimo senza drone. In alternativa seguirà i punti Overwatch, quindi Bravo 4, Bravo su Overwatch e Overwatch, e fornirà fuoco di copertura. Le squadre Alpha ed Echo assalteranno direttamente e conquisteranno la posizione Bala. La Task Force Charlie muoverà relativamente sul punto Delta e faranno un movimento a sbalzo. La Delta presidia, la Charlie muove su Charlie 3. Conquistata Charlie 3, se necessario, la Delta raggiunge Charlie e supera andando su Delta 4. E conquisteremo Bala da questa posizione. In teoria è stato detto tutto, i nemici sono provvisti di antiaerea, ovvero la posizione Skywatch, possibilità anche fanteria. Quindi i due droni dovranno essere tenuti a elevazioni molto alte. Bisogna eliminare i mortali il prima possibile, quindi cercheremo di tenerci in movimento il più possibile. Ci troveremo davanti un teo di fanteria nemiche e probabilmente dei killing, quindi semplici jeep con ghettling. Niente di più pesante è previsto. E' stato detto bene o male tutto, per qualsiasi domanda scrivete pure qua in fondo al video o trovatemi su Steam o sul TeamSpeak degli EXA. E... Tattattà, bene o male è stato detto tutto, sì. Perfetto. Ci si vede domani sera ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao.